ciao ragazzi io sono davide benvenuti sul mio canale youtube oggi ci rimpiccioliamo per bene perché andiamo ad analizzare una delle telecamerine più piccole che ci siano in circolazione e che possiamo installare anche sui nostri droni si stiamo parlando della isa 360 go 2 come sapete ci sono un bel po di recensioni su questa telecamerina qui ma oggi la andiamo ad approfondire soprattutto per tutto quello che concerne i nostri amati droni fpv si è un piccolo piccolo gioiellino come molti dicono ma attenzione attenzione perché c'ha qualche pecca e poi è meglio di una gopro 8 o 9 vediamolo insieme nella confezione oltre alla isa 360 go 2 eccola qua annuali di istruzioni vari che sono fatti molto bene il classico cavetto usb di tipo c che serve per ricaricare la custodia dove si inserisce la isa 360 go 2 abbiamo questo supporto ok che si leva da qui è adesivo quindi si può attaccare su pareti lisce come ad esempio vetri vedi finestrino della macchina è adesivo ma questa superficie poi può essere lavata e quindi si può riutilizzare è tutto quanto con calamita quindi vedete dopo di che abbiamo la clip che potete mettere sul cappello insomma dove vi pare sempre con calamita molto molto comoda e insomma non è che si stacca e poi abbiamo il medaglione che potete mettere tranquillamente sul petto anche questo ha calamita l'unico svantaggio è che ovviamente questa è una telecamera che si surriscalda quindi specie d'estate sentirete il caldo qui sul petto è veramente microscopica la vedete sul palmo della mia mano e rispetto alla sua versione 1 vedete è leggermente più grande pesa di più ma è molto più solida cioè questa sembra un giocattolino infatti io questa qui ho deciso di non recensirla perché alla fine veramente per quello che costava non ne vale la pena giusto se volete fare qualche shot su instagram a bassa risoluzione con questa invece stiamo proprio su un altro livello già da quando la tenete in mano effettivamente sentite che c'è una certa qualità rispetto alla versione 1 la versione 2 ha una lentina protettiva a vite questa cosa è stupenda perché se abbiamo degli ND filter possiamo sostituirli in un attimo e ne parleremo a breve mentre la versione 1 ok sempre dotata di calamita per essere utilizzata appieno necessitava dell'app sul cellulare con la versione 2 abbiamo questa custodia ragazzi che è veramente una meraviglia perché oltre a fungere da protezione della nostra ista e a ricaricarla quando la andiamo ad inserire questa ragazzi è un vero e proprio telecomando cioè un radiocomando mediante una user interface molto semplice ma intuitiva siamo in grado di cambiare non tutte le impostazioni ma quasi tutte e di cambiare le modalità di registrazione in un attimo e essendo un radiocomando la possiamo utilizzare a non solo a telecamera inserita ma anche a telecamera disinserita quindi ad esempio se io la lascio lì dalla mia custodia posso connettermi questo è un grande vantaggio perché non sono obbligato ad utilizzare l'app sul cellulare con questo bottoncino bianco posso scorrere tra le varie opzioni video normale le foto il video pro il time shift il time lapse video hdr slow motion e di accedere ai settings e da qui posso decidere ok di registrare sta registrando vedete come pulsa il suo led ok e da qui posso decidere di interrompere cioè una figata spaventosa dopo che la utilizzo ok la rimetto nella custodia che mi funge anche da power bank e me la rimette in carica per ricaricarla all'interno della sua custodia ci vuole circa 25 minuti mezz'ora poi in base a quanto l'avete proprio scaricata se utilizzo la telecamerina e la levo dalla custodia ci posso fare 15 20 minuti poi in base alle funzioni che utilizzo e se utilizzo l'app occhio che se utilizzate l'app si scarica più velocemente quando ho finito di scaricarla la rimetto qua dentro chiudo aspetto una mezz'oretta mi si ricarica la ritiro fuori e la riutilizzo quindi ho visto che bene o male la potete utilizzare per due botte da 15 20 minuti e qualche cosina dopodiché la custodia vi si scarica comunque dovete ricaricare un po tutto con il peso stiamo sui 26 e 76 grammi la versione 1 pesava 18 e 21 con la versione 2 abbiamo 8 grammi in più rispetto a questa ma ragazzi comunque è sempre una bazzecola eccoci qua ragazzi state vedendo la ripresa dalla ista 360 go 2 sto camminando quindi potete gustarvi la qualità della stabilizzazione flow state vedete sto saltando in questo momento guardate che roba ragazzi stiamo passeggiando all'interno della natura tra zone di sole ed ombra potete anche apprezzare la qualità dell'audio mediante l'app ista 360 che comunque vi lascio qui sotto in descrizione una volta che siamo connessi vedete ho la possibilità di andare a vedere tutte le registrazioni che ho fatto oppure mediante l'icona della fotocamera accedere ok al mio video vedete in questo momento sto guardando proprio tutto quello che sta riprendendo la mia action cam questa è una cosa veramente fighissima perché grazie al fatto che sto vedendo in real time ho la possibilità di regolare le impostazioni anche inserendo un nd filter ed essere sicuro che quello che sto riprendendo effettivamente è la qualità che voglio potete andare a modificare la risoluzione video questa è una telecamera che arriva massimo a 1440 p 50 fps se cliccate su questa icona qui dove c'è scritto auto ho la possibilità anche di decidere di andare in manuale ok è veramente modificare di tutto ok dall'iso vedere 100 200 400 andare a regolare lo shutter e questo in base insomma al mio nd filter e ovviamente guidare la registrazione direttamente dalla app ha una memoria interna dedicata a video foto eccetera di circa 28 gigabyte con la versione 2 infatti finalmente non abbiamo più il dannato limite che avevamo con la versione 1 che potevamo registrare solamente fino a 5 minuti adesso con questo in modalità fp potete andare a registrare anche fino a 30 minuti è una telecamera che tende a surriscaldarsi ragazzi cello dopo che la utilizzate un pochetto veramente scotta siamo più o meno a un quarto d'ora di utilizzo ragazzi e se tocco la telecamerina è super bollente se l'ha utilizzato in un ambiente ventilato o ad esempio sui nostri droni fpv non ci sono problemi perché non mi è andata mai in protezione ma se raggiunge una certa temperatura vi si spegne tutto e dovete aspettare che si raffreddi per utilizzarla nuovamente un altro problemino è l'autonomia perché in fpv io ho registrato per un totale di 15 17 minuti circa di clip quindi fatevi due conti quando ve la portate con voi se la ricaricate potete riutilizzarla nuovamente per un altri 15 17 minuti questo tutto in fpv la modalità migliore per registrare è la modalità pro vi consente di elaborare il filmato in post produzione tutto questo grazie a una app dedicata che si chiama ista 360 studio scaricate mi raccomando la versione 2021 perché la 2020 con questa telecamera qui è buggata a volte si impalla con la modalità pro potete decidere se abilitare ad esempio la stabilizzazione flow state la stabilizzazione fpv che adesso vi farò vedere oppure non utilizzare per niente la stabilizzazione potete cambiare il formato 16 noni 9 sedicesimi il fov quindi wide stretto lineare se levo la lente di protezione ho la possibilità di inserire degli nd filter ho preso questi della sunny life così un po per giocherellare vi lascio il link qui sotto in descrizione vedete semplicissimo prendo l'nd filter questo per esempio un nd 16 e in un attimo ragazzi lo avvito eccolo qui e c'ho l'nd filter scelto un'altra cosa simpatica della sua custodia che c'ha un ingresso a vide da un quarto qui sotto a queste alette qui dietro tipo uno scarabbeo e si può tranquillamente posare a terra o dove volete voi per eventuali riprese qui ci stiamo facendo un giretto col mio beta fpv 95 x v2 dove ho montato la lista 360 go 2 in modo orizzontale la stabilizzazione è quella fpv e ve ne rendete conto perché l'orizzonte oscilla sinistra destra e le impostazioni sono standard non ho nd filter non ho nulla e come vedete non soffre assolutamente di problematiche di yellow queste sono le impostazioni standard così come vi arrivano quindi anche la color correction è quella standard qui invece ho impostato la color correction da app in vivid quindi con vivid se non vi volete sbattere ad applicare la vostra color correction ci pensa il software di insta e vedete che vi dà dei colori che sono molto sparati queste invece sono le impostazioni di colore che preferisco sempre standard niente di filtro non ho toccato assolutamente nulla ho soltanto messo la color correction a log quindi vedete i colori sono totalmente piatti e questa è l'impostazione che vi suggerisco se poi volete andare a fare della color correction in post produzione con il computer e quindi applicare i colori così come volete voi in base alla luce in base alla situazione e via discorrendo qui state vedendo le impostazioni che preferisco sto utilizzando un nd filter 32 sto viaggiando a 1440p e 30 fps la modalità di registrazione è la stabilizzazione di tipo fpv che comunque sui droni la preferisco perché vi dà una certa dinamicità qui ad esempio state vedendo la stesso lo stesso filmato però stabilizzato con il flow state vedete l'orizzonte è perfettamente piatto e sebbene per alcune riprese potrebbe andare bene questo dipende se fate un volo dritto ben impostato se ci avete un soggetto comunque non è che mi fa impazzire perché sembra tutto molto finto ma questo poi dipende da voi qui state vedendo un esempio di freestyle fatto con il mio 5 pollici il filmato non è stabilizzato sto registrando in formato wide quindi non ho ancora quel super view del tipico della gopro però all'effetto devo dire che è sorprendente cioè sono rimasto abbastanza stupito qui state vedendo lo stesso filmato di prima però dove invece che utilizzare il il fob in wide l'ho messo in action view quindi l'action view lo schiaccia e lo rende un molto simile al super view della gopro qui sto facendo sempre freestyle ma ho stabilizzato in fpv mode il firmato quindi lo potete comparare quando utilizzate le vostre gopro secondo me la stabilizzazione non è proprio allo stesso livello però il risultato è eccezionale se iniziate a fare freestyle pesante e attivate la stabilizzazione flow state non fatelo perché questo è il risultato indecente che si ottiene e questo è un bel drittone cinematic fatto con la modalità stabilizzazione in fpv e il fob in action view vedete il risultato devo dire è veramente superlativo cioè da un bel effetto di velocità e dinamicità e qui ragazzi per farvi comprendere al massimo le varie differenze vi ho messo a paragone quattro diverse esportazioni state vedendo state vedendo lo stabilizzato fpv con il fob wide lo stabilizzato fpv con il fob action view non stabilizzato con il fob action view e stabilizzato con il flow state è waterproof la potete immergere fino a quattro metri attenzione solo lei non il case è un piccolo gioiellino ve lo fanno pure pagare tanto si aggira da un 265 270 euro fino ad arrivare all'acquisto in italia più o meno a 360 euro quindi siamo sugli stessi costi di una gopro come avete visto sui miei droni fpv sia sul mio drone disintegrato da bando che sul mio piccolino cinematic non ho sofferto di yellow nemmeno quando non ho utilizzato l'nd filter quindi il sensore sicuramente mi sembra meglio della sua prima versione che accusava molto di più lo yellow comunque se avete problemi di yellow mi raccomando ragazzi date sempre un'occhiata al supporto che la sorregge perché quello è la chiave deve smorzare al meglio le vibrazioni e non deve molleggiare troppo perché rischiate di peggiorare questa problematica e se avete problemi di yellow piuttosto che metterla in orizzontale mettetela in verticale perché ho visto che il sensore video tende a soffrire meno di questo problema qui vi ho detto veramente tutto vi ho fatto vedere tutti quanti i miei test quindi da soli vi potete fare un'idea se prendere o meno questa telecamerina qui per quanto mi riguarda innanzitutto non la considero una sostituta delle nostre amate gopro io la considero come un'aggiunta alla vostra attrezzatura perché vi consente non solo di fare degli shot veramente veramente particolari ma appunto con le sue dimensioni il suo peso diventa veramente molto molto interessante se applicata al mondo del cinematic molti mi chiedono davide ma secondo te va bene nel bando allora sicuramente è molto più resistente della versione 1 che era veramente un giocattolino in confronto a questa il fatto che abbia in dotazione una lente che la protegge che in un attimo avvitando e svitando la potete sostituire è un valore aggiunto per quanto riguarda la resistenza però se mi chiedete davide ma te la porteresti nel bando no ragazzi non lo so non è una telecamerina da bando per me è una telecamerina che va sfruttata per le sue dimensioni perché è comoda perché è portabile ve la portate veramente ovunque e perché la potete mettere in un attimo sui vostri droni pure di piccoli dimensioni perché lì dove avete bisogno di stare sotto un certo peso questa sicuramente è giusto target inoltre avete visto la qualità video è fenomenale la stabilizzazione niente da dire certo se volete fare dei lavori ultraprofessionali non raggiunge livelli di editing fatti con real steady però ragazzi voglio dire e quindi la comprerei sì ragazzi solo per il cinematic il long range il cruising lì dove ho problemi ovviamente di peso voglio stare leggero e sicuramente la consiglio a tutti coloro che non si voglio sbattere per realizzare una copro naked che tra l'altro è anche fuori garanzia oppure andare a spendere fior di quattrini e quindi soldi a spruzzo per prendersi le naked pronte ragazzi che ve le fanno pagare una somma pazzesca se siete poi delle persone che amano arricchire i propri video con delle scene originali che potete fare solo con telecamerine di questo tipo oppure che amate fare delle passeggiate registrare alcuni dei vostri momenti migliori della giornata beh sicuramente acquista dei punti in più come al solito vi lascio qui in descrizione tutte quante le informazioni e il link per acquistarla se volete supportare il canale con questo video è tutto mi raccomando like iscrivetevi attivate la campanellina e se avete in mente di prenderla iniziate a lavorare con la fantasia perché vi può dare belle soddisfazioni grazie a tutti ciao ciao